Ascesa della classe media, la belle époque vide l'emergere di una nuova classe sociale, la classe media, che beneficiava della crescente prosperità economica. Questo nuovo gruppo sociale era caratterizzato da un forte desiderio di affermarsi e da un gusto per il lusso e il divertimento. Emancipazione femminile, le donne iniziarono a guadagnare maggiore autonomia in questo periodo, potendo accedere all'istruzione, al lavoro e alla partecipazione alla vita pubblica. La lotta per il suffragio femminile guadagnò slancio in questo periodo, con importanti conquiste in alcuni paesi e movimenti artistici. La belle époque fu un periodo di grande fermento artistico. L'impressionismo, con artisti come Monet e Renoir, rivoluzionò la pittura, catturando la luce e l'atmosfera effimere. Il simbolismo, con artisti come Gauguin e Klimt, utilizzò immagini evocative e simbolistiche per esplorare temi profondi. L'art nouveau, con artisti come Muka e Tiffany, si espresse in un nuovo stile decorativo caratterizzato da linee sinuose e forme naturali. Letterature e teatro, la letteratura della belle époque fu ricca di capolavori. Romanzi di autori come Marcel Proust, Oscar Wilde e Virginia Woolf influenzarono profondamente la narrativa del ventesimo secolo. Il teatro conobbe un periodo di grande successo, con opere di autori come Henrik Ibsen, Anton Ekov e George Bernard Shaw che affrontavano temi sociali e psicologici complessi style di vita. La belle époque fu caratterizzata da un'atmosfera di eleganza e raffinatezza. Le persone frequentavano caffè, teatri e cabaret, si vestivano con abiti eleganti e partecipavano a feste e balli. La vita notturna era vivace, con numerosi locali che offrivano musica, danza e spettacoli di vario genere. Sviluppi scientifici e tecnologici medicina, la belle époque vide importanti progressi in campo medico, con la scoperta di vaccini e cure per malattie come la difterite e il tetano. La chirurgia fece notevoli passi avanti, con lo sviluppo di nuove tecniche anestesiologiche ed interventi chirurgici più complessi.Fisica. Albert Einstein formulò la teoria della relatività durante questo periodo, rivoluzionando la nostra comprensione dello spazio, del tempo e della gravità.Comunicazioni. L'invenzione del telefono permise una comunicazione istantanea a distanza, mentre la telegrafia consentì la trasmissione rapida di messaggi sull'unico lunghe distanze trasporti, l'automobile divenne. Un mezzo di trasporto sempre più diffuso, rivoluzionando la mobilità personale. L'aereo fu inventato alla fine del XIX secolo e iniziò a essere utilizzato per i primi voli, sperimentali.impatti politici e globali, nazionalismo. Il nazionalismo crebbe in importanza durante la belle époque, con l'ascesa di stati nazionali più forti e competitivi. Questo clima di nazionalismo contribuì alle tensioni che sfociarono nella prima guerra mondiale.imperialismo. Le potenze europee continuarono ad espandere i loro imperi durante questo periodo, colonizzando vaste aree dell'Africa e dell'Asia. L'imperialismo portò allo sfruttamento delle risorse e delle popolazioni locali, ma anche alla diffusione della cultura e della tecnologia europea in tutto il mondo primi conflitti mondiali. La fine della belle epoque fu segnata dallo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914. Questo conflitto su vasta scala, che coinvolse le principali potenze europee, causò milioni di morti e distruzione e segnò la fine di un'epoca. La belle epoque fu un periodo di grandi cambiamenti e progressi in molti settori della società. Fu un'epoca di ottimismo, prosperità e innovazione, ma anche di contraddizioni e tensioni che sfociarono nel tragico conflitto della prima guerra mondiale. L'eredità della belle epoque continua a influenzare il nostro mondo ancora oggi, lasciandoci un'epoca ricca di fermento culturale, artistico e scientifico. Grazie a tutti.